Intervista esclusiva al membro del Comitato Politico Supremo degli UTI 5 febbraio 2024 Nell'attuale contesto di tensioni internazionali, Mohamed Ali Al-UTI, membro del Comitato Politico Supremo del Movimento Ansar Allah-UTI, ha dichiarato in un'intervista esclusiva che l'Italia sarà considerata un bersaglio nel caso partecipi all'aggressione contro lo Yemen. Mohamed Ali Al-UTI, attualmente uno dei leader di spicco del Movimento Ansar Allah, ha sottolineato che l'Italia dovrebbe evitare il coinvolgimento in operazioni militari nello Yemen, definendo tale partecipazione come un escalation e una militarizzazione del mare. Ha enfatizzato che l'obiettivo delle operazioni degli UTI è fermare l'aggressione e sollevare l'assedio, rappresentando un obiettivo legittimo che deve essere perseguito. L'intervistato ha consigliato agli europei di aumentare la pressione su coloro che sono ritenuti responsabili degli orrori a Gaza. Ha anche avvertito che se gli Stati Uniti invieranno truppe, affronteranno sfide più difficili di quelle in Afghanistan e Vietnam. Nella sua dichiarazione, Al-UTI ha evidenziato che le azioni degli UTI sono una risposta alle ingiustizie e ai massacri perpetrati contro il popolo di Gaza. Ha sottolineato la necessità di porre fine al massacro quotidiano e all'assedio contro i bambini di Gaza, consigliando all'Italia di esercitare pressione sull'entità israeliana per fermare tali atrocità. Il leader Yemenite ha respinto l'idea di un blocco nel Mar Rosso causato dai loro attacchi ai mercantili, sottolineando che prendono di mira solo le navi associate a Israele. Ha dichiarato che non hanno intenzione di chiudere lo stretto di Bab el-Mandeb o il Mar Rosso, accusando l'Occidente di diffamare deliberatamente gli UTI attraverso i media. Al-UTI ha anche affrontato la decisione dell'amministrazione Biden di classificare gli UTI come terroristi, dichiarando che essere etichettati come terroristi per sostenere Gaza è un onore per loro. Ha enfatizzato che questa classificazione non influisce sul loro movimento, poiché non hanno interessi economici o aziende internazionali negli Stati Uniti. Riguardo a un'eventuale escalation nel conflitto in Yemen, Al-UTI ha dichiarato che il popolo yemenita è pronto ad affrontare qualsiasi sfida in. Infine, il politico yemenita ha affermato che non esiste un negoziato diretto con gli americani, ma qualsiasi comunicazione avviene attraverso il loro team di negoziazione nel sultanato dell'Oman. L'intervista di Mohamed Ali Al-UTI fornisce uno sguardo approfondito sulla posizione degli UTI rispetto agli sviluppi recenti e alle tensioni crescenti nella regione.